Doppia operazione delle forze di polizia a Trani a finire nelle mani degli agenti uno spacciatore che aveva fatto di un bar del centro la sua centrale operativa. Poco dopo i poliziotti sono riusciti a recuperare anche una pistola detenuta illegalmente da un uomo riuscito poi a fuggire. In un bar del centro i poliziotti hanno arrestato un trentenne pregiudicato tranese accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo una perquisizione nel bar e nella sua abitazione gli agenti hanno trovato 12 grammi di cocaina 58 grammi di ascisce 6 grammi di marijuana un bilancino di alta precisione 600 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Trani. Grazie ad una segnalazione anonima i poliziotti hanno inoltre potuto individuare in un casolare abbandonato un malvivente che alla vista della pattuglia non ha esitato a puntare la pistola che aveva con sé contro gli agenti nel tentativo di spaventarli. I poliziotti non si sono però lasciati intimidire e l'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce nelle campagne abbandonando sul terreno l'arma. Una pistola automatica modificata priva di caricatore e munita di silenziatori in acciaio sulla canna. Durante la fuga il malvivente ha abbandonato anche uno zainetto contenente un caricatore vuoto.